Freising è un'azienda bavarese con una forte tradizione e un forte carattere familiare. Quali sono i valori che da più di 800 anni guidano l'azienda tuttora ad oggi? Siamo una fabbrica di birra molto vincolata con la nostra regione e facciamo prodotti tipici della nostra regione vicino a Monaco che sono dei tipi speciali della birra come la birra Bok la birra Weiss, la birra Pilsner sono tutti prodotti regionali che sempre hanno esistito nella nostra zona da tantissimi anni. Quanto è importante scegliere un partner distributivo d'eccellenza per i propri prodotti? Ci sono tanti italiani che vengono ogni anno nella nostra zona di Monaco e conoscono il nostro prodotto allora anche qui da loro vogliono comprare queste birre e per noi è importante far arrivare la birra per quello per noi l'importatore è clave per la nostra distribuzione.